Vorresti la maglietta del tuo giocatore preferito? Oppure ne vorresti una con nome e numero a tua scelta? Passa dal link in descrizione, prezzi convenienti, personalizzazione completa e consegna veloce. E inoltre col codice GG94 hai il 10% di sconto. Venite in tanti! Allora ragazzi, so bene che iniziare video di questo genere con battute e deprimenti può essere dannoso per il video stesso, però questa battuta lasciatemela fare. La Roma in questo calciomercato ha preso, ed aveva già tuttora il rosa, Santon, Juan Jesus, Cristante, Pastore, due pellegrini ed è interessata anche a chiesa. E adesso non so se vogliamo cambiare obiettivo e dopo l'obiettivo scudetto che ormai abbiamo capito di non poter ottenere più, vogliamo diventare la squadra più religiosa del mondo, la squadra più cattolica del mondo, perché sennò veramente non si spiega il perché dell'accostamento e dell'acquisto di tutto questo genere di giocatori. A parte le cavolate, ora la battuta mia l'ho detta, la mia stronzata l'ho detta, ora possiamo parlare ed iniziare a parlare seriamente. La Roma, come tutti ben sapete, è alla ricerca di un nuovo esterno offensivo, di un esterno offensivo di qualità tecnico e grintoso che possa dare una mano al reparto offensivo giallorosso, che nonostante l'arrivo di Kleivert sembra ancora bisognoso di altri giocatori, visto che a quanto pare uno tra Perotti e Sciarawi, e soprattutto Perotti, sembra in procinto di partire. E, come ho detto anche in questa battuta merdosa, uno dei possibili acquisti, comunque un giocatore verso il quale la Roma ha mostrato grandissimo interesse, è il giovane campioncino Federico Chiesa, attualmente in forza alla Fiorentina. Allora, permetto prima di tutto che io considero Chiesa un ottimo prospetto, un grande talento, che se verrà fatto crescere con la giusta calma potrà diventare uno dei migliori giocatori italiani di tutto il mondo. Anche adesso nel giro della nazionale, anche se diciamoci la verità, essere nel giro della nazionale italiana in questo momento è una cosa abbastanza facile. Comunque, Chiesa nell'ultima stagione ha totalizzato sei gol complessivi, ma in generale ha contribuito più per la squadra che per se stesso. E questa si può dire che è la dote principale che i suoi allenatori apprezzano continuamente. Il fatto che non pensi solamente a se stesso, ma cerca di sfruttare le sue qualità per dare una mano a tutta la squadra. È un giocatore veloce, molto veloce, con un buon dribbling, capace di rientrare molto spesso sul destro e fare dei tiri molto potenti. Quindi è un giocatore tecnicamente ottimo e che se seguirà le orme del padre diventerà veramente un grande giocatore, anche se sappiamo che non è sempre così. Questo l'ho chiarito fin da subito. Per me Federico Chiesa è un ottimo giocatore. D'altro canto però ci sono due cose che mi lasciano parecchi dubbi. Allora, la prima è che è comunque un esterno sinistro che ha il piede destro. Io da quello che vedo, per me la Roma serve più una riserva di Cengis Under o uno più forte con Under riserva, piuttosto che un altro esterno con il piede destro. Visto che abbiamo già Perotti, Esha Raoui e Clivert Junior. La mia idea è che se la Roma vuole mandare via Perotti, per forza, Esha Raoui sarà il titolare, Clivert sarà la riserva e verrà presa un'altra riserva di Under per avere due esterni destri e due esterni sinistri. Questa è la mia idea principale. Prendere un altro destro, rimanendo così sempre con tre destri e un mancino, mi sembra una scelta un po' strana. A questo punto mi tengo Perotti. Non sto paragonando Perotti a Chiesa, però sto dicendo, spero che abbiate capito il mio discorso, se devo prendere un altro esterno di piede destro, a meno che non sia Mertens e quindi uno veramente veramente affermato, mi tengo Perotti e non spendo una barca di soldi. Proprio per questo motivo mi collego al secondo punto. La Fiorentina ha detto più volte che la sua valutazione per Federico Chiesa è di 80 milioni. 80 milioni che vorrebbe dire più un colcazzo che ve lo diamo, piuttosto che una reale valutazione, perché io penso che nessuno al mondo potrebbe mai dare 80 milioni alla Fiorentina per prendersi Federico Chiesa. È un giocatore, come ho detto, molto forte, ma deve ancora crescere, deve ancora maturare, e mettergli addosso una valutazione di questo genere o comunque farlo sentire così importante. Non so quanto possa essere buono per lo stesso giocatore. Io non penso che nessuno offrirà mai una cifra del genere perché sarebbe ai limiti dell'assurdo. Però pensate se una squadra gli venisse la pazzia di acquistarla quella cifra. Chiesa diventerebbe in poco tempo, passerebbe da giovane talento a giocatore che deve dimostrare per forza, perché dopo che viene fatta una spesa del genere il giocatore deve fare per forza qualcosa e sicuramente non gli verrà accettata nessun errore. Quindi in generale io penso che per lui sia molto meglio rimanere alla Fiorentina per crescere con calma e magari diventare anche un monumento o comunque una bandiera di questa squadra, cosa che io gli auguro apertamente perché vedere bandiere in queste squadre per me è sempre una bella cosa e mi farebbe capire che le bandiere comunque i giocatori che ci tengono alla propria maglia non sono scomparsi o non stanno scomparendo del tutto. Detto questo, allora, io penso che la Roma non spenderebbe mai una cifra del genere per un giocatore come Chiesa ma la pena la spenderemmo per un giocatore veramente veramente affermato. Ad esempio Mertens, figuriamoci per un giocatore che ancora deve dimostrare tanto. Chiesa con tutto il rispetto è giovane e forte ma ha fatto finora nove gol in Serie A non è che ne ha fatti venti in una stagione o altro, so bene che il suo obiettivo principale non è se segnare però diciamo che se io voglio spendere costanti soldi per lui deve prima farmi tanti numeri per farvi capire e lo ripeto, per me Chiesa potrebbe diventare veramente veramente fortissimo però io dubito che la Roma riuscirebbe a spendere più di 30 milioni per acquistarlo per me già 30 milioni è tantissimo, è tanto al momento e non penso che la Roma arriverebbe al punto di spenderli tutti quanti per un esterno che comunque deve ancora affermarsi bene nel calcio mondiale. Abbiamo già preso tanti giocatori che devono dimostrare come Klaivert, lo stesso Cristante e tanti altri. Per me gli unici veramente affermati sono Marcano e Pastore gli unici due affermati veri e propri che abbiamo acquistato in questo calcio mercato quindi io penso che se la Roma vuole prendere un altro esterno offensivo soprattutto se lo vuole affiancare a Under che per quanto migliorato ancora deve crescere anche lui penso che la scelta della Roma sia più per un giocatore esperto e spero non berardi spero non berardi piuttosto che per un giocatore che per quanto è un buon talento ancora deve dimostrare tantissimo con la propria maglia quindi io non penso proprio che la Roma riuscirà a prendere Chiesa e spero con tutto il cuore che il giocatore possa rimanere alla Fiorentina ancora per tanti altri anni. Bernardeschi ha deciso di andare alla Juve perché comunque era un'offerta molto importante ma spero che Chiesa non faccia la stessa scelta indipendentemente dal fatto che non giocherebbe mai nella Juve attuale però Chiesa deve e deve secondo me di voler diventare importante per la stessa Fiorentina se dovesse diventare una bandiera ne sarei veramente contentissimo detto questo ragazzi fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate dell'interessamento della Roma per Federico Chiesa che da molti è considerato il mister X del nostro mercato anche se come ho detto per le cifre e per diversi motivi io non penso che arriverà alla Roma ci metto un 5% di possibilità ci vediamo presto per un altro video un saluto e sempre comunque forza Roma ciao ragazzi ciao